Confortevole su strada e scattante in off-road, agile come un urban car, solida come un mini-sub e totalmente costruita in Italia. Ecco come descrivere la nuova Jeep Renegade lanciata alla concessionaria Central Car di Perugia. La macchina con entrambe le motorizzazioni 1.6 e 1.9 è dotata di tutti i più sofisticati mezzi e tecniche per poter viaggiare nella massima sicurezza. Però non ci dimentichiamo che il principale dispositivo di una sicurezza in automobile è l'automobilista e colui che si mette alla guida di questi splendidi automezzi. 4,25 metri di struttura, bella nel design, sicura con un sistema di frenaggio automatico ed elettronico. A questo impegno dei costruttori occorre un ulteriore impegno delle istituzioni per far sì che le infrastrutture siano adeguate a questi mezzi. E pertanto anche la regione dell'Umbria con la nuova legge sulla sicurezza stradale si è assunto a un impegno di tipo normativo ma anche di coinvolgimento dei comuni che hanno un ruolo importante sulla progettazione e la realizzazione delle infrastrutture viarie. La nuova Renegade è stata presentata in preview nel corso di un evento in cui non sono mancati musica e prelibatezze del territorio. Il lancio è previsto per fine settembre. Nel frattempo per chi vuole entrare in possesso di Renegade Jeep ha messo a disposizione 300 veicoli che si chiamano Opening Edition ed è un allestimento top, top di gamma, ad un prezzo diciamo medio. Quindi chi vuole entrare in possesso, chi vuole maggiore informazione basta che si rivolge alla Central Car in una qualsiasi delle nostre tre serie che abbiamo in Umbria, Perugia, Città di Castello, Foligno oppure anche Terni e avrà tutte le informazioni opportune.